Il prossimo Consiglio Comunale si incentrerà su una discussione ancora una volta sulle problematiche relative alla società SAT e al progetto di fusione che c'è con la DF di Firenze che gestisce l'aeroporto di Peretola. Siamo arrivati in prossimità di una decisione da prendere da parte del Consiglio di amministrazione sul progetto di fusione che sta portando avanti Corporazione America. Il Consiglio Comunale vuole partecipare a questa discussione perché vuole essere sempre di più il luogo in cui si discutono gli argomenti che stanno a cuore alla città e sicuramente il futuro del nostro aeroporto è fra questi. Sarà una discussione che quindi partirà anche da una richiesta fatta dal Capogruppo Auletta ma una discussione che poi si ampierà, una richiesta di argomento è stata presentata anche da me a nome di tutta la conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco presenterà quelli che sono anche gli studi fatti da una società di consulenza sulle prospettive di un'eventuale fusione. illustrerà anche chiarimenti sul finanziamento necessario per adeguare la pista fiorentina e quindi per rendersi conto di come questi ingenti finanziamenti potranno essere acquisiti dalla società, eventualmente da questa società unica o comunque dalla società fiorentina. Seguirà poi ovviamente una discussione dove tutti i gruppi sicuramente interverranno, sarà come sempre è stato nell'ultimo periodo quando molto spesso questo argomento della situazione dell'aeroporto è stata l'attenzione del Consiglio Comunale, una discussione ricca, proficua. Io credo che sicuramente sarà un'occasione anche di maggior chiarezza per cercare di capire meglio quelle che sono le prospettive e su queste poi ognuno potrà pronunciarsi e eventualmente dare anche al Sindaco la possibilità con un atto di indirizzo di poter in qualche modo, visto che il Comune di Pisa è rappresentato all'interno del Consiglio di amministrazione, portare anche quelle che sono le istanze del massimo organo rappresentativo della città. Grazie. 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 Grazie.